Questo è il più grande piano di aiuti a imprese, famiglie e lavoratori, varato nell'Italia moderna, varato in un contesto difficilissimo, con una pandemia globale, in condizioni davvero molto complicati. 108 miliardi le risorse messe in campo ad oggi, 18 miliardi a fondo perduto, verranno appunto dati ristori fino al 200% rispetto ai precedenti, come prima giustamente diceva Jacopo Fo, che è uno di questi ristoratori. Dopodiché, scusate, la Germania, no, però fatemi finire perché le cose, però, no, la gente che fa le code per prendere il pane, abbiamo gente che fa le code per prendere il pane, non me le invento io, me le deve spiegare chi sono questi qua. Te le spiego, se mi fai parlare te le spiego, se no, soluta faccio la bella statuina, siccome non sono abituata a fare la bella statuina, o mi fate parlare oppure faccio la bella statuina. Allora, ho detto semplicemente che noi abbiamo messo in campo 108 miliardi. Bene, la Germania non ha prorogato la Cassa Integrazione come noi abbiamo fatto. Ma chi se ne frega della Germania, ti sto chiedendo con che faccia, con che faccia, va conto da queste persone, se il governo che stiamo facendo è questa schifezza che ci vede. Allora, io non riesco a parlare. No, perché non è la questione, cioè, con che faccia, va, e voi hai detto, ho fatto il più bel piano del mondo, avete fatto il più bel piano del mondo, allora andate avanti, che problemi avete? Ho detto, no, no, ho detto che abbiamo fatto il più bel piano del mondo. Hai detto tu, adesso, abbiamo fatto il più grande piano. Non dire sciocchiere, abbiamo fatto il piano più grande della storia moderna di questo paese. Chi l'ha fatto? 108 miliardi mobilitati, dopodiché, voglio dire agli amici ristoratori, che non c'è un governo che si diverte a fare le zone rosse né a chiudere i locali. Se lo facciamo è perché ci sono ancora dai 500 agli 800 morti al giorno, perché abbiamo gli ospedali dove i medici non ce la fanno più a lavorare in quelle condizioni disperate. Non è un sogno. Allora, non è un sogno, il sogno è salvare la vita delle persone. Eh, ma se fate così rimarrà un sogno, però, Alessandra, noi dobbiamo evitare che questo virus maledetto circoli. E per farlo dobbiamo seguire quello che ci dice la comunità scientifica. Dobbiamo fare... Dopodiché, dobbiamo fare di più e dobbiamo fare meglio. Ma non dite la fesseria e la stupidaggine che non si è fatto nulla, perché state mentendo agli italiani e mentite a queste persone che hanno fatto e agiscono nell'illegalità. Ma scusa, ma io non ho capito, ma tu che trasmissione hai sentito? Perché io ho chiesto un'altra cosa. Non attribuirmi cose che non ho detto, però. Non puoi imparare a memoria, non puoi imparare a memoria. Io ho detto semplicemente... Io non parlo a memoria. Eh sì, perché scusa, fai dei riferimenti che non sono esistiti. Voi state continuando a dire che non si è fatto nulla, quando invece si è varato un piano con degli errori, ma per salvare la gente dobbiamo evitare questi comportamenti illegali. No, 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 Alessandra. Questi comportamenti illegali vanno respinto. Quindi la provocazione...